Ho scelto il blocco, marmo bianco statuario. I miei occhi hanno già visto tutto. Ora è il tempo delle mie mani. Che lo scalpello rompa le barriere della durezza. Entri nell'anima della pietra. Ma all'improvviso compare una venatura. Un imprevisto incompatibile col sogno. Che fare? Mi fermo. Osservo. Sto in silenzio. E finalmente una nuova immagine appare. Modifico il disegno e incido nella pietra splendente, traiettoria fuori programma, piene di meraviglia. Le mie mani guidate non solo dall'intelletto umano ma da una misteriosa intelligenza superiore. Grazie. Grazie.